Non vorremmo che lo stesso disegno riguardasse anche il futuro delle banche di credito cooperativo. È un'ipotesi da non trascurare e quindi se hanno voluto distruggere le banche del territorio partendo dalle popolari non è escluso che questo disegno riguardi anche le banche di credito cooperativo. Noi ci auguriamo che questo non avvenga. Noi abbiamo bisogno delle banche del territorio, abbiamo una estrema necessità per la nostra economia soprattutto in Veneto dove le piccole e medie imprese hanno rappresentato e rappresentano ancora la spina dorsale della nostra economia e le banche del territorio sono non utili ma sono indispensabili per la nostra economia e per il futuro delle nostre famiglie.